buongiorno a tutti ragazzi buona domenica devo dire la verità quando si vince e ci si rende conto che poi c'è un giorno dopo e una domenica soprattutto di relax di gioia di felicità beh è tutta un'altra storia quindi cerchiamo di andare subito ad analizzare quella che è stata la partita di ieri quindi torino vi vento se andiamo a vedere le cose che hanno funzionato e quelle che hanno funzionato un pochino di meno per farlo utilizzeremo questo match report che visto così c'è una marea di roba noi andiamo a tagliuzzarlo nel dettaglio andiamo ad analizzare praticamente le cose che ci interessano maggiormente per quella che è stata la partita in generale dove potete trovare questo match report beh è soccerment che è la messa a disposizione è lo sponsor del canale quando parliamo di analisi della partita quando parliamo di pagelle e non solo perché lo avrete visto anche di recente nel video in cui andavo a valutare no la mia partita alla youtuber league juventus inter quindi passate qui sotto in descrizione per trovare la piattaforma di analisi di soccerment dove ci sarà anche il match report molto presto scaricabile o se no potete tranquillamente scrivere a soccerment su twitter o su instagram per farvi inviare il match report io sul mio twitter comunque il match report l'ho pubblicato oppure qui sotto per comprare xid il parastinco intelligente che vi accompagnerà nelle partite e nelle vostre analisi personali oppure la piattaforma di analytics che viene messa a disposizione da soccerment vi lascio comunque tutto qui sotto nella descrizione sapete dove andare a riaprire le informazioni e quindi niente iniziamo l'analisi di questo torino juventus tiri in porta che poi nel calcio no diciamo che è sempre la statistica che viene presa un po più in considerazione pochi tiri della juve nel primo tempo infatti io fino al primo tempo non ero proprio contentissimo più ricolo più pericolosa invece la juventus nel secondo tempo dove trova anche il gol del 1 a 0 che poi sarà il gol vittoria torino che calcia tanto verso la porta infatti ci sono stati 15 tiri del toro e 14 della juve quindi siamo lì però c'è un dettaglio piccolo piccolissimo e cioè che loro non sono praticamente mai riusciti a trovare una vera e propria occasione pericolosa e infatti guardate il grafico guardate un attimino il grafico lì sono tanti piccoli cerchietti azzuri del torino invece quelli verdi della juventus sono un po più grossi perché la juve ha avuto delle occasioni più pericolose ha avuto delle occasioni maggiori e lo conferma anche il dato degli expected goals no potete vedere infatti il torino ha un xg di 0 51 la juventus di 2.16 quindi sicuramente la vittoria della juventus è meritata per quelle che sono state le occasioni create da una squadra e dall'altra a me non ha fatto impazzire comunque la partita della juventus perché è vero riferisco la vittoria è meritata strameritata però non mi è sembrata una grande partita da parte dei bianconeri andiamo avanti con l'analisi possesso e passaggi i granata hanno lavorato più di possesso anche nell'ultimo terzo di campo infatti hanno avuto il 53 per cento di possesso palla è un fil tilt del quasi 57 per cento noi invece abbiamo avuto il 47 per cento di possesso palla e 43 per cento di fil tilt juve però che ha avuto più pressing rispetto agli avversari non stiamo parlando di chissà che cosa però la juventus ha pressato più del toro segno che comunque il toro probabilmente non aveva preparato quel tipo di partita aggressiva come magari mi potevo immaginare alla vigilia entrambe le squadre però hanno impostato la gara sui cross provenienti dagli esterni infatti come possiamo vedere c'è una percentuale di passaggi dei cross praticamente del 3 per cento in tutte e due le formazioni la juventus invece spesso e volentieri ha provato il passaggio lungo magari anche quello a scavalcare il centrocampo infatti secondo me il centrocampo della juve è stato un po così nella partita di ieri e forse questo dato ce lo va a confermare maggiormente andiamo avanti finalizzazione che è sempre il dato che mi piace di più non mi piace l'expected goal ma il cumulativo invece mi piace maggiormente perché ti dà veramente la panoramica questo grafico ti dà la panoramica di quello che è accaduto no all'interno della gara e quindi pochissimo toro il toro rimane l'azzurro guardate lì con lo 05 di cui parlavamo prima veramente poca roba troppo poco per impensire gli avversari invece la juve male nel primo tempo infatti potete vedere che primo tempo non eravamo arrivati nemmeno all'uno come expected goals una sola grossa occasione dove tiriamo in porta tre volte la tripla parata di Milinkovic Savic su Vlaovic Locatelli e Rabiot invece siamo stati più presenti in zona goal nel secondo tempo dicevamo anche prima Milinkovic Savic il portiere del torino mostruoso per i pari di casa in più occasioni appunto nel primo tempo quella roba lì il tiro di Locatelli da fuori un paio di calci d'angolo anche la parata su Dujan Vlaovic quella girata di testa su Assis di Kostic sul cross di Kostic e invece poi noi dopo il goal come potete vedere nel verde acqua quando andiamo a trovare il goal il grafico diventa più piatto perché andiamo a gestire non a cercare il goal del 2 a 0 per cercare di chiudere la partita e bisogna stare attenti a queste gare qua perché secondo me nell'aria comunque la pericolosità del torino c'era poi loro non sono praticamente mai stati bravi a creare l'occasione dal goal però mi sono sentito in più di un'occasione poco tranquillo nel finale di gara perché sentivo la possibilità di trovare la fregatura passaggi ok vi lascio qua il riassunto completo di quelli che sono stati i passaggi nei nostri calciatori per leggere la grafica potete mettere in pausa dovete selezionare il primo numero 36 sono i passaggi totali completati da Shesny 58% sono quelli riusciti datevi a leggere un po voi ci sono stati alcuni giocatori più presenti altri giocatori meno presenti se devo ragionare sui due meno presenti tra i titolari faccio due nomi che sono McKennie e Ken e infatti poi vado a vedere i passaggi sono quelli che sono stati probabilmente meno all'interno del gioco ma vedremo anche più avanti con l'itmap che questa cosa verrà confermata eccola qua infatti l'itmap di base la Juventus è scesa in campo con un 3-5-2 lo sapevamo dalla vigilia avevamo parlato prima della gara sapevamo già tutto però attenzione che quadrado è stato un po più basso rispetto a Kostic vedete che Kostic è stato molto molto alto anche perché comunque i giocatori del Torino attaccavano e difendevano di più su quelle fasce lì e quindi possiamo disegnare non solo il 3-5-2 ma anche il solito 4-4-2 storto segno che comunque quadrado era un giocatore che veniva molto ad aiutare McKennie invece era più largo rispetto a Rabiot. Ken e Vlaovic mi sono sembrati davvero troppo troppo vicini tra di loro con il 9 che tocca decisamente più palloni rispetto al collega l'avevamo visto anche qua no? Vlaovic 37 passaggi effettuati contro i 15 di Ken poi la precisione dei passaggi è la medesima 73% però Vlaovic ha toccato più del doppio dei palloni rispetto a Ken è entrato più nel vivo della manovra rispetto al solito cosa anche non proprio peculiare anzi l'opposto una cosa bizzarra perché Vlaovic solitamente tra lui e Miliche è l'attaccante che tocca meno palloni Miliche è quello che fa un po' più da raccordo infatti secondo me Ken è stato probabilmente un po' troppo isolato nella fase di sviluppo della Juventus analisi della partita il riassunto finale non la miglior partita tra Juventus che abbiamo mai visto apri chiudo a parentesi anzi però davvero troppo poco toro per creare problemi alla nostra retroguardia abbiamo controllato bene la partita anche per via di grossi demeriti di Granata incapaci di convertire le tante avanzate sulla tre quarti abbiamo visto prima comunque il toro tanto possesso palla anche tanto possesso nell'ultimo terzo di campo tanti tiri verso la porta però poi non è stato in grado di fare chissà che cosa la Juventus invece ha creato due tre quattro occasioni veramente pericolose magari anche all'interno della stessa azione il portiere del toro è stato miracoloso e poi a un certo punto su quella spezzata di Danilo su calcio d'angolo non ha potuto fare niente c'è stato il gol di Vlaovic e la partita praticamente è finita lì ringrazio ancora una volta Soccerment per tutti i dati che ci hanno fornito per questa analisi quindi ad Allegri voto 6 che ritrova la vittoria che va a cambiare qualcosina dal punto di vista dell'impostazione della squadra non più una difesa 4 ma una difesa 3 ha funzionato in questa specifica partita ribadisco a me la Juve non ha fatto impazzire le occasioni da gol non sono state così numerose perché è vero che il portiere del toro è stato determinante in più di un'occasione però le occasioni grosse sono state principalmente tre più il gol perché in una occasione generale ci sono stati tre tiri in porta quindi il portiere si è saltato lì mi piacerebbe vedere una squadra in grado di creare un po più occasioni da gol come era accaduto magari col Bologna col Maccabi anche in ripartenza perché secondo me oggi c'è mancata questa roba qui non mi è piaciuta molto la gestione dei cambi perché probabilmente a centrocampo avrei fatto qualcosa di diverso però la vittoria Allegri se la porta a casa la vittoria è meritata meriti della Juve de meriti del toro secondo me una fusione tra le due cose tre punti importanti io li ho definiti vitali perché in questa situazione non vincere anche oggi sarebbe stato forse davvero letale quindi letale e vitale sono le due contrapposizioni non gli opposti e Allegri si porta a casa una sufficienza io ho deciso di definire una partita utile interessante vittoriosa ma non quella della svolta anzi invito tutti a non parare partita della svolta perché probabilmente questa stessa identica partita contro un avversario di un altro livello sarebbe stata un'ennesima pacca nei denti per nostra fortuna l'avversario di giornata era il toro ma se penso a quello che deve essere lo sviluppo della Juventus durante la stagione questo è un punto di partenza minimo rispetto alle due partite bruttissime che ci si è lasciate alle spalle ma è ancora un po' troppo poco per quello che è secondo me il livello della Juventus e per quello che è il livello che deve raggiungere la Juve da qui alla fine ragazzi mi piace questo video tra poco arriveranno anche le pagelle dei calciatori fatemi sapere intanto qui sotto le vostre pagelle perché io ho un'idea ben chiara in testa e quindi ci vediamo con il prossimo video